ricompense gratis per tutti i giocatori dovete andare su questo sito xbox.com slash play dopodichè ragazzi vi farà entrare appunto in questa pagina andate a premere file for free vi si è scritto sign in dovete entrare con il vostro account se non ce l'avete volete creare uno nuovo e poi mettere il vostro account di fortnite riceverete questa ricompensa diciamo che è un valore che può essere riscattata su fortnite soltanto con xbox cloud gaming quindi in questo modo potete riscattarla quindi in questo momento vai a lasciare un bel like bravissimo vai ad iscrivere e condividi questo video con tutti i tuoi amici ciao ragazzi bye